ma buongiorno 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 dottori e dottoresse si vede che sono felice oggi più del solito o non si vede si vede che sto nascondendo le lacrime perché non ho comprato abbastanza bitcoin quando era basso o non si vede buon venerdì primo marzo a tutti 13 e 15 qui in quel di sydney mentre voi siete nei vostri comodi letti che ancora dormite qua il mercato già impazza le news già sono tutte qua tutte fresche pronte per essere colte oggi come sempre vi ricordo lunedì mercoledì e venerdì aggiornamento sui grafici e sui mercati e preparatevi perché oggi ma di news ma ne abbiamo una squintalata che non ve ne potete fare una ragione molto brevemente vi faccio già un riassunto di quello che vedremo perché oggi c'è veramente tanta roba e soprattutto voglio parlarvi anche di cose un po pratiche perché numero uno parleremo di alcune aziende bitcoin che non stanno andando affatto bene e sulle quali anche c'è c'è la possibilità di farci qualche operazione ma adesso ne parliamo vi parlerò di una nuova offerta su bing ex con la quale tre fortunati vincitori verranno estratti in diretta l'undici di marzo quindi avrete poi dieci giorni per far tutto quello che serve ve ne parlerò vi dico solo che io ad oggi ho già estratto solamente come bonus 636 dollari da bing ex questi sono tutti i bonus che mi sono appioppato semplicemente iscrivendomi facendo trading questi insomma sono tutte le cose che loro mi hanno date per cioè non sono referralo cose sono semplicemente soldi che qualsiasi persona che si scrive a bing ex può tirar fuori facendo appunto le sfide le challenge ma vi parlerò di un'offerta dedicata al nostro audience e pubblico e poi facciamo una una sfornata di news e notizie udite udite parleremo bene dei pack se ha senso acquistare adesso oppure no insomma guarderemo un po tutto quello che sta accadendo nel panorama bitcoin ultimo ma non per importanza e ci mettiamo anche la nostra la nostra gif qua di me che vi propongo le consulenze ho lanciato le consulenze ma non voglio farvi la marchettata subito all'inizio del video iniziamo a parlare e ve la faccio dopo allora dicevamo bitcoin senza freni grafico settimanale stiamo toccando i massimi a livello di grafico perché mercoledì vi ho insegnato che il vero all time high e qualcuno anche nei commenti ha detto non dire all time high di all time high c'è ragione però a me piace dire all time high perché sono italiano e voglio tenere la mia italianità dicendo all time high all time high va bene all time high high vabbè è brutto comunque abbiamo raggiunto il whole time high qui su bitcoin a quota praticamente 60 abbiamo toccato i 64 mila quasi il massimo assoluto ce l'abbiamo qua a 69 nel video di mercoledì vi dicevo 79 aggiustato all'inflazione ma insomma poco conta chi se ne frega siamo lì siamo nella zona dei massimi di sempre per bitcoin ma se questo grafico è così bello su bitcoin lo stesso non si può dire di alcune aziende all'interno del mondo bitcoin infatti io vi avevo condiviso vedete questa watch list qua allora ve la ricondividerò su telegram ma molto probabilmente me ne dimenticherò tempo che finisco di registrare il video mi dimenticherò di caricarvela scrivetemi nei commenti di youtube ve la carico su telegram la watch list con tutte le notizie su bitcoin e soprattutto le aziende che fanno parte di indirettamente o indirettamente del mondo bitcoin qua vedete ci sono gli etf gli asset management gli exchange le treasury e soprattutto le aziende di mining aziende sulle quali ci concentriamo adesso perché guardate che cosa stanno combinando vedete che rispetto al grafico di bitcoin qua ma siamo in terreno nero cioè qua siamo in un terreno paludoso guardate che differenza come praticamente tutte le aziende di mining stiano perdendo un po di valore barra lateralizzando a differenza di bitcoin che invece ha sparato e sta andando a toccare i massimi precedenti questo perché allora molto 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 semplicemente perché le aziende di mining sono quelle che più di tutte nel breve periodo vedranno un problema dato dall'alving uscirà martedì o giovedì prossimo forse giovedì prossimo se non è già uscito oddio fatemi vedere perché io poi non mi ricordo più cosa pubblico ma penso giovedì prossimo ok ancora non è uscito uscirà giovedì prossimo un video completamente dedicato all'alving di bitcoin con un report molto interessante di grayscale che ci farà capire perché quest'anno un po diverso quindi mettete la campanella comunque registratevi anzi registratevi mettete la campanella lasciate anche un like a questo video per rimanere aggiornati il video è già pronto e deve solo uscire uscirà giovedì e vi parlerò proprio dell'alving ma quello che dobbiamo capire è che l'alving ha delle conseguenze negative nel breve periodo sulle aziende di mining perché è vero che nel lungo se io di mezzo l'offerta e la domanda rimane uguale per forza il prezzo deve salire e quindi bitcoin è sempre destinata a salire dopo l'alving lo vediamo nello stesso grafico qui ad esempio abbiamo avuto il primo alving il 28 novembre 2012 ora non so se il grafico va così indietro 2012 ci arriviamo sì eccolo qua andiamo a novembre 2012 e vediamo un po quello che è successo eccolo qua novembre 2012 guardate qua cosa è successo a dicembre boom candelone rialzista poi in realtà siamo scesi questo forse è stato un anno un po funesto un po un po brutto c'era mt gox 2012 no mt gox che era 2014 comunque novembre 2012 candela che rialza e poi prezzo un po che scende ma se guardiamo quelli un po più vicini luglio 2016 ve lo dico perché già lo so ma insomma luglio 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 2016 eccolo qua andiamo a vedere il prezzo di bitcoin che cretino per forza dicevo non mi quadrano i dati però boh sarà avrò sbagliato io se guardo il grafico di riot e non quello di bitcoin e allora è anche colpa mia capite bene che me lo merito stavamo dicendo il primo alving era novembre 2012 andiamo a vedere cosa è successo novembre 2012 mamma mia il prezzo di bitcoin quanto non valeva niente mamma mia ma quanto devo zoomare qua da 0 a 20 dollari ma stiamo scherzando vabbè novembre 2012 alving e lascio vedere a voi quello che è successo dopo l'alving cioè il prezzo alle stelle e allora andiamo luglio 2016 luglio 2016 eccolo qua da queste parti oh mio dio dove è finito agosto eccolo qua aprile maggio giugno luglio 2016 finisce luglio 2016 si riparte un mesetto dopo verso l'infinito e oltre e poi l'ultimo alving è stato nel 2020 l'11 maggio 11 maggio del 2020 2020 marzo aprile maggio eccolo qua maggio 2020 passa un mesetto qua in realtà passano due tre mesetti e poi prezzo che sale verso l'infinito e oltre se si ripeterà la stessa cosa anche quest'anno e dottori qua c'è qui i 100k sono ma altro che necessari c'è altro che voluti necessari direi adesso tutto questo discorso per cosa per due motivazioni principali primo nel prezzo di bitcoin solitamente sia un rialzo e quindi i miner potrebbero non avere più problemi se il prezzo di bitcoin sale perché se il prezzo di bitcoin sale il miner si che guadagna la metà di quello che guadagnava prima ma se il prezzo la doppia gli va benissimo così anzi ancora più contento dall'altra parte però potrebbe questo alving essere già stato scontato rispetto al passato perché in passato non abbiamo mai avuto un rialzo del genere prima dell'alving ma sempre dopo e vuoi vedere che magari adesso invece l'abbiamo scontato in anticipo ci siamo preparati adesso che ci sono più investitori istituzionalizzati e che quindi dopo l'alving non andiamo incontro a quel rialzo classico che siamo abituati a vedere ebbene questa è una domanda che dobbiamo porci perché tutte queste aziende rischiano seriamente di finire in sé di problemi perché con i loro margini dimezzati hanno bisogno che il prezzo di bitcoin salga e quindi insomma teniamo d'occhio queste aziende perché poi il mining è anche quello che mette in sicurezza bitcoin sì che poi c'è il difficulty adjustment sì che poi si può insomma l'alving il mining di bitcoin troverà il suo nuovo equilibrio va benissimo però comunque il miner in modo suo è una parte fondamentale del network di bitcoin quindi sarebbe curioso vedere cosa fanno queste grandi aziende tra l'altro io ringrazio simone taverna perché è stato lui che mi ha segnalato la queste aziende di mining che stavano facendo queste performance chi è simone taverna è il mio collega scemo di podcast abbiamo siamo in due nel podcast io e il collega scemo il collega scemo è lui consulente finanziario cf lavora in banca e tutte cose e insieme ogni sabato alle ore 9 facciamo il podcast finanziario più irriverente d'italia quindi se già qua mi sentite simpatico in questi termini un po così nel podcast andiamo praticamente oltre e quindi se volete imparare non solo bitcoin ma qua si parla anche tanto di macro economia apri chiuda parentesi abbiamo fatto un intervento interessante sui btp italia non me ne sto a parlare adesso perché non voglio allungare troppo questo video parlando anche di btp italia della pubblicità insensata quasi al limite dello scam che hanno fatto vi consiglio di ascoltarvi il podcast lo trovate su spotify ma anche su fontaine e io vi consiglio fontaine è totalmente gratuito e in più guadagnate bitcoin semplicemente ascoltandoci voi il sabato alle ore 9 sapete che esce la nuova puntata su fontaine magari arriva 15 minuti dopo comunque se l'aspettate arriva e vi straconsiglio appunto la puntata numero 9 perché parliamo di cose macroeconomiche interessanti e anche di tutte queste news su su bitcoin allora detto questo io direi che possiamo mettere un attimo da parte tutto il discorso focalizzato solo su bitcoin e sull'alving e vi posso parlare un attimino anche dell'operatività più nuda e cruda allora vi vi stavo annunciando vi ho detto all'inizio del video che c'è un'offerta solamente per il nostro pubblico per il nostro audience per chi ci segue marco costanza grazie 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 io sono qui a far da portavoce ma siamo tutti insieme in questa famiglia che si può accaparrare tre bonus saranno tre i fortunati vincitori ricordo 75 50 25 usdt che vi verranno direttamente ricompensati sul vostro account di bing ex ci sono solamente due cose da fare la prima è registrarsi con il link che vi lascio qua sotto così verrete tracciati e poi io quando farò l'estrazione estrarrò da quelli che appunto si sono registrati dal primo di marzo in poi adesso vediamo se riusciamo anche a inserire quelli che sono registrati prima così facciamo un favore siamo tutti insieme appassionatamente comunque vi potete registrare tramite il link primissima cosa seconda cosa iper facile da fare 2000 dollari di volume di trading e già vi metto le mani avanti non vuol dire che dovete depositare 2000 dollari 2000 dollari di volume si fanno con un battito di ciglia perché possiamo utilizzare la leva finanziaria ora fatemi fare un disclaimer gigantesco come una casa questo non è un consiglio all'investimento non vi sto spronando di investire ma se già lo fate e volete provare a farlo con bing ex allora questa è l'occasione è l'occasione secondo me migliore come vedete io già solamente tramite i bonus di trading già mi sono preso appunto oltre 600 dollari così vi voglio però far vedere come si utilizzano questi bonus perché nel momento in cui vi registrate con il link oltre a far parte di questa estrazione per i tre fortunati vincitori comunque avete tutti i bonus di chi passa da questo link uno di questi bonus è appunto ricevere 50 dollari un voucher un voucher da 50 dollari o sì mi pare un voucher da 50 dollari e comunque vi faccio vedere come si utilizzano questi bonus perché di una facilità allucinante tra l'altro ogni giorno vi faccio vedere anche la pagina se voi andate sulla pagina qua diciamo delle di ok adesso l'ho perso va bene potete entrare su questa pagina qua direttamente rewards e voi entrate ogni giorno vedete che ogni giorno che voi entrate vi dà un premio tipo oggi mi hanno dato 10 usdt una roba del genere da usare come bonus voucher 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 che dir si voglia come si utilizzano ve lo faccio vedere subito allora vediamo se questo da due dollari non l'ho ancora riscattato e me lo danno allora allora questo qua però forse sul copy trading allora vi faccio comunque vedere come si utilizzano perché sono di una banalità allucinante dopo che voi li riscattate quindi avete questi bonus sono ce li avete nel vostro account vedete che qua c'è una barra progressiva che mi dice in base al volume di trading quanto mi manca a quel bonus tra un povero il bonus da 100 usdt vi faccio vedere come operare in maniera sensata allora anticipo già una cosa sul mio canale youtube ho fatto un video tutorial iper approfondito di come funziona bing x lo trovate lo trovate eccolo qua guide tutorial completo a bing x bing x che dir si voglia ma vi faccio vedere in parole brevi come fare trading senza bruciarvi il capitale senza farvi male allora prima di tutto potete utilizzare il bonus andando qua vedete voi andate in alto a destra trovate usdt bonus e qui ad esempio c'ero io che ho aperto dei long su bitcoin ripeto con soldi bonus questo qui era il bonus da 2 dollari questo il bonus da 10 dollari questo da 15 dollari detto ma sì apriamo dei long e li teniamo lì probabilmente falliranno miseramente l'unica volta in cui io entro long quando bitcoin sicuramente scende e crolla però avete visto quanto è facile utilizzare i bonus andate qua aprite l'account e poi adesso io vedete qua non ho più un bonus disponibile ma altrimenti qui vi trovate il totale dei bonus che potete utilizzare che sia bonus ma che siano soprattutto i vostri usdt adesso io qua ad esempio su sull'account del futures normale non ho niente ma sui futures perpetui o sui 500 dollari mi pare vediamo asset 550 dollari vi faccio vedere come utilizzarli per operare allora prima di tutto va beh qua avete le criptovalute che potete guardare non guardare cosa vi piace cosa non vi piace le potete dividere che ne so per quanto sono cambiate nell'ultima ora che so dite ah come mai che questa people ha fatto il 37 per cento le ultime 24 ore andiamo subito a shortarla no vabbè adesso magari non proprio così però nel senso qua vi potete guardare quali sono insomma le cripto che hanno più volatilità noi prendiamo ad esempio ethereum che almeno un po più tranquilla possiamo fare delle operazioni un po più sensate ad esempio io prendo il grafico giornaliero dico ah guarda che bella shooting star che mi ha fatto ethereum se non mi sbaglio qua siamo vicino i massimi eccolo qua me l'ha fatta proprio su questo livello di resistenza sai cosa io allora entro short come operare senza il pericolo di bruciarsi il conto il capitale ed essendo sicuri di quello che si perde allora guardate bene le informazioni che abbiamo tra l'altro faccio una cosa pericolosa ma la devo fare allora aspettate un secondo fatemi prendere queste cose qua e mi sposto magari qua al centro ok perché adesso qui abbiamo bisogno di questa schermata e voglio che si veda tutto allora vedete che qui abbiamo le leve e qui abbiamo il conto il costo eccetera eccetera allora prendi tutto siamo su apri cosa vogliamo fare andare long o andare short vogliamo andare short quindi target price e stop loss short perché voglio andare short mi decido subito qual è il mio stop loss quindi la primissima cosa lo stop loss e dico che lo stop loss lo voglio a 36.000 scusate 3668 diciamo 3668 quando io inizio a mettere il costo quindi quanto mi costo l'operazione vedete che lui qua sotto mi dice quanto io perderò da quella operazione ma attenzione c'è un dato ancora più importante che dobbiamo guardare ovvero il prezzo di liquidazione stimato vedete che il prezzo di liquidazione è a 3500 che è prima dei miei 3600 cosa vuol dire che ancora prima di raggiungere lo stop verrei liquidato questo perché perché sto utilizzando una leva troppo alta quindi cosa vado a fare innanzitutto io vado a impostare lo stop qua in modo che io so già quanto poi posso perdere poi scusate in realtà prima vado a modificare la leva mettiamo che ne so leva 6 più o meno so che dovrebbe essere più o meno quella leva ok con leva 6 la mia liquidazione è a 3900 ma no guarda io ti dirò che posso spendermi posso spingermi fino a 3600 eccolo qua 3680 io posso metterlo stop a 3670 in questo caso siamo un po' prima ok e voglio uno stop che ne so di soli 50 usdt in questo caso di 52 usdt benissimo ora io ho tutto quello che mi serve so che sto investendo 57 dollari dei miei 412 so che ho attivato lo stop loss e il target price il target adesso non l'abbiamo messo ma possiamo anche andare a mettere il target lo mettiamo qua siamo a 2650 quindi 2650 qui si sono dati per capire quanto potrei guadagnare e quanto potrei perdere in questo caso io potrei guadagnare 120 dollari ma ne posso perdere 50 e sono tranquillo che il mio stop loss mi raccomando questo importantissimo è prima del mio prezzo di liquidazione ovviamente visto che sono short deve essere prima se invece se al contrario se stessi facendo un long lo stop lo voglio mettere dopo ok cioè questo mi sembra abbastanza chiaro comunque lo stop deve essere più facilmente raggiungibile del prezzo di liquidazione ecco una volta settato tutto io semplicemente apro lo short ed ecco qua la mia operazione con tutti i miei i miei valori qua inseriti se vogliamo essere tranquilli che quello che abbiamo fatto sia totalmente preciso io posso perché sono tornato indietro di pagina eccolo qua io posso andare ad inserire anche qua sotto i livelli di take profit e stop loss abbiamo detto il take profit lo volevo abbiamo messo a 2650 quindi aggiungi 2650 e questo a 3670 vi faccio vedere questo questo diciamo questa indicazione dice fai attenzione perché il tuo stop è comunque molto vicino al prezzo di liquidazione quindi potrebbe essere che in un mercato tanto volatile se c'è un movimento improvviso il tuo stop salti ce lo scordiamo nel caso in cui volete essere totalmente sicuri potete attivare lo stop loss garantito che però vi costa quindi vi sconsiglio utilizzare lo stop loss garantito piuttosto diminuite lo stop loss di un pochettino o se no se tanto sapete già che la vostra liquidazione quindi se voi comunque anche una volta liquidati non perdete più di 50 dollari quello che è lasciatelo anche qua è sempre consigliato comunque avere uno stop loss più distante al prezzo di liquidazione quindi in questo caso io avrei dovuto abbassare la leva magari a 9 così da avere un prezzo di liquidazione più alto perché se venite liquidati non solo perdete i soldi ma pagate anche per essere liquidati quindi non ha veramente senso sono soldi buttati quindi in questo caso vedete che mi è uscito l'allarme attenzione che sei sotto l'un per cento se io volessi fare le cose come si devono dovrei allora chiudiamo questa questa operazione chiudiamo la mercato che non ci serve più dovrei dire allora no sai cosa la faccio in leva 9 in leva 9 la liquidazione è molto più lunga vedete a 3700 e quindi qua in questo caso io metto lo stop a 3668 avevano detto ok apri short in questo caso se io vado a mettere lo stop a 3668 vedete che non mi esce più l'allarme che sono diciamo che una fetta troppo piccola per la liquidazione quindi questa sicuramente la cosa migliore se volete essere iper tranquilli tenere un un ampio margine tra liquidazione e lo stop queste come si aprono operazione noi adesso abbiamo fatto un'operazione con un volume da 570 dollari investendone solamente 60 circa quindi capite bene che fare 2000 dollari di volume è veramente facile tutto questo per cosa per la partecipazione alla key draw vi ricordo vi registrate qua sotto con il link questo è come si opera e quindi registrazione tramite il link e 2000 dollari di volume di trading e insomma trovate trovate poi tutto qua sotto nel link che vi giro c'è tutto spiegato tra l'altro c'era anche un modo per vedere quanto volume di trading state facendo ma penso lo troviate forse se andate sul vostro account futures da qualche parte c'è anche un valore di quanto allora mi pare sui bonus mi pare sui bonus se io vado su i miei bonus ah sì qua vi dice quanto state scambiando allora perché se io vado su sui bonus che ho utilizzato qual era la pagina 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 non me la ricordo comunque c'è una pagina per vedere quanto volume di trading avete fatto ma adesso non la trovo volevo farvela vedere in diretta ma non la trovo non la trovo non la troverò mai non la troverò mai non è questa non è questa allora forse devo andare qua la voglio trovare ma non so se era centro promozione forse centro ricompense centro ricompense ok ce l'abbiamo fatta centro ricompense andate su futures e qua vi dice quanto volume state facendo vedete che adesso io sono a 31 mila dollari di volume di trading quindi qua li trovate ce l'abbiamo fatta allora dottori vediamo un po vediamo un po cosa abbiamo a livello di news a livello di news coinbase crasha dopo che arriva la fomo e il prezzo di bitcoin va in all time high perché sono arrivati una squintalata di utenti e praticamente hanno avuto dei problemi dove vedete coinbase up is down e quindi vedete che alcuni utenti si vedevano il balance a zero questo però è un segnale altalmente bullish perché significa che c'è stata una fomo allucinante e quindi tantissime persone che sono approdate su coinbase sul sito pur di far trading poi abbiamo il nostro amico bitcoin che si classifica quattordicesimo come valuta nel caso in che fosse una valuta più capitalizzata al mondo e quindi insomma è interessante interessante vedere adesso bitcoin che inizia a muoversi inizia a scalare piano piano tutte le classifiche vediamo vediamo se mai raggiungere la prima posizione perché perché tutte le altre falliranno sarà sarà interessante ma passiamo a notizie un po più concrete allora burran storiche sapete che per arrivare a un milione a bitcoin e tra l'altro scusatemi fatemi rimettere qua adesso che qua nell'angolino perfetto però l'angolino un pelino ancora un po più in qua perfetto così mi piace tra l'altro vi sto dicendo per arrivare a un milione a bitcoin non c'è bisogno di fare chissà quale per basta un 16 per stesso 16 per che abbiamo fatto da 4 mila dollari ovviamente con la differenza che i capitali che devono entrare per passata 64 mila un milione sono di ordini di grandezza superiori quindi è molto più difficile molto più difficile non è che è solamente poco più difficile è molto più difficile arrivare a un milione però se ci pensate 16 per non è poi così dai si può fare si può fare e in passato vedete abbiamo avuto cambi da 5 centesimi 24 dollari da 2 dollari a 1100 dollari da 160 a 19 mila dollari e quindi adesso vediamo se effettivamente da 64 mila ce ne possiamo andare a un milione sarà molto interessante vederlo quando accadrà pack su bitcoin questa cosa interesserà a molti questa cosa so che tanti mi avevano chiesto ne ho già parlato mercoledì di come comportarsi su bitcoin se non sapete se entrare oppure no riguardatevi quel video ma anche in questo video qua vi voglio mostrare semplicemente come microstrategy se ne sia fregata totalmente di qual era il prezzo di bitcoin sa che lo vuole accumulare per il lungo periodo lo compra e ma bitcoin può fare solamente il 50 per cento il cento per cento non è abbastanza e voglio comprare shit coin meme coin bene è un tuo diritto ma stiamo parlando qua di salvare il capitale per il futuro di salvare il capitale dall'inflazione adesso lungi da me dire che bitcoin nel breve periodo può far questo ma nel lungo periodo cavolo cavolo nel lungo periodo può farlo in maniera più che gregia e lo ha già fatto in maniera più che gregia e quindi vedete che microstrategy se ne fregata ha comprato quando era i minimi ha comprato praticamente quando era i massimi semplicemente ha il suo piano di accumulo ma ne ho strategi il suo piano di accumulo sono circa 150 milioni al mese magari non è proprio come il nostro da 100 euro al mese ma poco importa che siano 150 euro o 150 milioni di euro sempre lì siamo e quindi lui compra costantemente indipendentemente da quello che fa bitcoin questo è la maniera giusta per avere un pack ed esporsi a bitcoin in modo sano lungo diciamo nell'arco nell'arco temporale di qualche anno io vi ricordo che se volete fatemmo trovare eccolo qua se volete fare un pack su bitcoin ad oggi lo strumento migliore secondo la mia tra l'altro questo qui sets back non so se ho il link qua sotto in descrizione nel caso ve lo do ma è molto interessante perché vi danno cashback su praticamente qualsiasi tipo di acquisto che fate online quasi qualsiasi esiste l'estensione chrome dovrei avere il link in descrizione per mettete un'estensione per chrome che vi dà degli sconti comunque parlando di rely rely è quell'applicazione direttamente su smartphone che vi consente di creare un piano di accumulo iper comodo e appunto lo potete creare settimanale bisettimanale mensile con il codice costanza adesso sto cercando di aprire per vedere se siamo arrivati vediamo se sono arrivato a 100 persone invitate l'abbiamo superato 101 101 persone grandi tutti bravi tutti ha vinto lo sport grazie e quindi potete utilizzare rely per fare un piano di accumulo su bitcoin in maniera totalmente iper comoda non custodial rely vi dà le vostre chiavi private rely può fallire distruggersi esplodere scappare in uruguay voi non perderete un singolo centesimo dei vostri bitcoin quindi questo è il metodo più sicuro in assoluto per fare un pack su bitcoin in maniera comoda ed efficiente codice costanza sconto a vita sulle commissioni quindi qualsiasi transazione voi facciate avete lo sconto grazie al codice costanza ok continuiamo con le news abbiamo il governo statunitense che inizia a spostare dei bitcoin non si sa bene perché li spostino forse per questioni di sicurezza per questione di non lo so per verificare che tutto sia normale attivo che non abbiano perso le chiavi la cosa interessante è che spostano i bitcoin come li sposteremo noi cioè che una cosa normalissima da fare è la prassi e sia chiaro quindi non è che hanno fatto qualcosa di strano anzi tutti dovrebbero far così vi faccio vedere cerchiamo us government eccolo qua vedete gli ultimi spostamenti vedete che prima di spostare vedete questi 12 mila bitcoin se voi guardate in basso adesso se io sposto il mouse non potete più vederlo ma guardate in basso a sinistra vedete che c'è bc1 qkm quello è l'indirizzo bitcoin dove sono stati spostati bitcoin e la cosa interessante è che prima di spostare 12 mila vedete gliene spostano 0.01 stessa cosa prima di spostarne qua 2800 ne hanno spostati 0.001 quindi fanno sempre prima la prova dicono ok sono arrivati possiamo spostare anche gli altri e giustissimo ripeto non ho fatto niente di strano è giustissimo fare far così per quando sposto i bitcoin essere sicuro che non ci siano stati dei problemi in mezzo attacchi e robe varie comunque chissà il motivo per cui li stanno spostando magari semplicemente per una questione di sicurezza per verificare che le chiavi siano aggiornate che ci li hanno sempre in movimento insomma e che non ci sia nulla di preoccupante dietro comunque hanno 13 miliardi e mezzo in bitcoin e magari a questi prezzi stanno anche valutando se venderne qualcuno ma non lo so lo scopriremo presto cosa abbiamo abbiamo poi delle delle indicazioni sugli etf sui flop degli etf lasciatemelo dire che sono stati dei flop allucinanti infatti ibit che è l'etf di blackrock benché pesi solamente per lo 0.2 per cento su tutta la line up che offre blackrock ebbene ha ricevuto il 42 per cento degli inflow da inizio anno cioè di tutti gli etf che ha blackrock il 42 per cento dei soldi sono finiti in questo etf da inizio anno ovviamente è qualcosa di senza senso anche su fidelity cose molto simili pesa solamente il 2 per cento della line up ma ha raccolto il 64 per cento dei capitali cioè pensate anche solo per queste società cosa vuol dire avere questi volumi senza senso senza senso si muovono nuove istituzioni nuove banche nuovi attori nel mondo di bitcoin e dell'offerta dell'etf spot con morgan staley poi abbiamo anche wells fargo bank of america è molto interessante anche il fatto che tim buckley che era il ceo di vanguard vi ricordo vanguard secondo fondo al mondo dopo blackrock se ne va da ceo e quindi chissà che il nuovo ceo anziché essere totalmente contro bitcoin vi ricordo che vanguard aveva detto assolutissimamente no niente tf spot magari il nuovo io sarà di un'altra corrente di pensiero e se anche vanguard entrasse in questa diciamo in questa corsa al bitcoin e sarebbe interessante sarebbe interessante ultimissime cose che cosa abbiamo notizie tra virgolette un po più negative ma è giusto così è giusto bisogna anche fare i confront fare diciamo facing quindi confrontarsi con la realtà grandissimo outflow da gbtc praticamente sapete che grayscale è quello che aveva più bitcoin di tutti si continuano a togliere fuori bitcoin probabilmente perché visto il rialzo che c'è stato è in dubbio che un sacco di investitori abbiano portato a casa dei profitti cioè l'investitore medio non è su bitcoin perché vuole vedere cambiare il mondo gliene frega poco vuole semplicemente speculare e guadagnare quindi insomma ci sta che si inizino a fare un po di prese di profitto e questa cosa teniamo la mente adesso sul grafico di bitcoin sarà molto più secondo me soggetto a queste dinamiche di boom sparo e poi mi prendo i profitti perché gli investitori vogliono portare a casa altro che diamo nens gliene frega niente loro vogliono i dollari e vogliono godersi la vita non tenere bitcoin per il resto della loro vita quindi insomma non si possono biasimare ognuno ha la propria valutazione detto questo non le dire che abbiamo finito quest'ultima slide sono allo stremo delle forze vi annuncio solamente che è una slide che fa vedere le liquidazioni degli short che ci sono stati la più grande liquidazione della storia degli short su bitcoin vabbè è anche facile da comprendere ha fatto un rialzo che non aveva senso bitcoin e quindi ecco che sono stati liquidati in una settimana quasi 400 milioni di posizioni ribassiste e quindi insomma ecco che ecco che il prezzo poi ha avuto poi quell'impennata al rialzo anche per tutte queste liquidazioni finché poi non ha deciso di fermarsi dottori io vi saluto con questa cosa qua con questa notizia se andate su marco costanza punto it consulenze ho finalmente aperto ho finalmente finito di sistemare il la questione delle consulenze perché prima c'erano alcune consulenze sconto alcune no adesso finalmente avete la prima consulenza alla metà del prezzo fino a qualche fino a mesetto fa era tipo a 50 euro oggi saranno a 75 perché sto ricevendo troppe e non ho più tempo per starci dietro quindi ho dovuto per forza di cose aumentare un po il prezzo insomma siete ancora in tempo ad utilizzare il codice prima consulenza quindi in fase check out voi questo lo aggiungete al carrello poi mettete il codice prima consulenza e da da 150 vedete che guardatelo qua il nostro amico carrello se voi vediamo se dov'è il mio amico carrello aggiunge codice promozionale prima consulenza applica ed ecco qui che vi ritrovate uno sconto di 75 euro quindi sulla prima ora se avete dei dubbi delle domande a livello operativo a livello di bitcoin a livello di sicurezza livello di privacy di anonimato qualsiasi domanda voi abbiate organizzate la consulenza una volta che l'avete acquistata vi basterà andare sul sito dove l'avete acquistata e qua c'è il calendario potete prenotare fino a una settimana dopo quindi oggi venerdì potete prenotare da venerdì prossimo e qui vi prenotate trovate gli orari dite ok marco io alle 7 di pomeriggio vorrei venire a farmi una consulenza mettete il nome bla 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 e mi scrivete qua sotto quali sono le cose che volete approfondire mi raccomando io confermo l'ora e la blocco solamente se avete anche acquistato l'ora di consulenza perché altrimenti tutti iniziano a programmarsi e poi qualcuno magari effettivamente poi non la fa e io mi ritrovo così con con le candele in mano e quindi prima acquistate l'ora di consulenza e poi prenotatela nel diciamo quando preferite è tutto automatico quindi insomma potete fare tutto direttamente da voi stessi insomma piano piano sta prendendo vita questo sito abbiamo aggiunto altri corsi non so se li avete già visti ve ne avevo parlato in precedenza insomma trovate un corso base totalmente gratuito su bitcoin un corso gratuito sulla storia di bitcoin un corso gratuito su come funziona bitcoin e poi due corsi invece a pagamento che parlano o della strategia di trading o di come mettere bitcoin in sicurezza comprarlo in modo anonimo e gestirlo dottori grazie mille grazie mille per il seguito grazie mille per il supporto 40 minutini anche oggi ma direi che erano dovuti con tutte le cose che abbiamo detto vi ricordo offerta di bing ex qua sotto noi ci aggiorniamo molto presto lunedì con un nuovo video ma domani vi ricordo sabato ore 9 italiane trovate su fontaine su spotify la puntata del podcast di aloha final un saluto a tutti un abbraccio un bacione e a presto ciao ciao Grazie a tutti.